Com'è andata con questo correndo con le forbici in mano? E' andata che, come al solito, mi ha chiamato Flavia Gentili e dunque io, siccome mi ricatta, adesso la gente a casa non sa nulla, no, com'è andata che ormai mi è venuto questo viziaccio di fare gli audiolibri perché mi sento molto accudito ed è una cosa che in realtà sognavo di fare da quando sono ragazzino, abbiamo ormai rotto il ghiaccio per cui sono affari vostri e questo è il terzo, a me sembra una cosa straordinaria, che io sia riuscito a leggere tre libri ad alta voce, questo è un libro diversissimo soprattutto dall'ultimo che avevo letto, il secondo che era Orwell e anche questo mi ha molto intrigato e a differenza della fattoria degli animali che conoscevo molto bene da tanto tempo, questo proprio non lo conoscevo, per cui mi sono affidato, come è giusto fare con persone che ne sanno più di te, mi sono affidato a Flavia Gentili che cura e ha la pazienza di ascoltare anche le infiniti rifacimenti e sono andato, mi sono buttato in questa storia che vi confesso e mi auguro che sarà lo stesso per voi, mi ha abbastanza sbarordito. è la storia di un bambino che cresce in una famiglia tostissima in cui il padre e la madre si usano violenze, litigano in continuazione, è un bambino completamente, continuamente tirato, che non riesce mai a trovare il suo centro e anche a questa mamma che poi inizia a manifestare sono segni di pazzia molto evidenti che poi nel libro continuano e la cosa che mi ha più colpito leggendolo insieme a voi che lo ascolterete è il tono di questo libro che mi sembra straordinario perché ha una voce che io per esempio ho sentito molto vicino a me, Pietro, che veniva dal luogo in cui io pure osservavo il mondo, lui all'inizio a 11 anni, poi va avanti per qualche anno, in cui mi ha molto colpito la sincerità, anche quanto erano taglienti e lucide le immagini con cui lui descrive il mondo come lo si guarda da 11 anni una famiglia difficile, quanto è necessario spesso girare la testa da un'altra parte, costruirsi mondi. Questo tono ironico, autoironico, perché è un memoir di fatto questo libro, il protagonista del libro è Augustin Boros, lo scrittore, a un certo punto, non vi dico quando, arriva una secchiata d'acqua gelida nella schiena perché quando lui cresce di un paio d'anni si affaccia all'adolescenza nel 13enne e inizia a muoversi nella sfera sessuale, è il libro di colpo, questo ci ha lasciato tutti a bocca aperta, racconta e ti tira in faccia delle immagini durissime, racconta la violenza con autoironia che è esattamente, credo, quello che io chiamo la magia dell'essere bambini e anche la mostruosità per certi versi, per cui magari uno digerisce e non capisce e sopporta cose senza saperlo, però lui non è che cambia tono, cambia quello che succede, ma lui è sempre lui che osserva anche la violenza con uno sguardo estremamente divertente e che ti ghiaccia, perché poi quando si racconta in modo ironico una violenza subita, si rimane così, con poche parole, però credo che sia veramente la magia di questo libro. Ma è un personaggio che mi ha fatto due in realtà, uno diciamo scuro, buio e l'altro invece rosa e quello buio è questo tagliaboschi completamente pazzo che la madre si riporta a casa, madre che nel frattempo ha una relazione omosessuale con una certa Dorothy e a un certo punto nei suoi soggiorni autunnali e annuali in manicomi, in luoghi dove viene ricoverata perché lei verso l'autunno inizia a perdere la brocca, come si direbbe a Roma, in uno di questi a un certo punto torna con un enorme orco boscaiolo gigantesco che ha una presenza circoscritta nel libro, però come dire che riesce in poco tempo, in poche pagine a produrre una violenza piuttosto bestiale e la cosa che mi fa ridere è che a un certo punto vi tralascio la violenza verso le donne, verso lui bambino è una cosa per farvi capire qual è lo spirito di questo libro, lui a un certo punto dice io a un certo punto di notte stavo dormendo, mi sveglio di colpo sentendo una strana cosa dietro la schiena vicino al sedere e in realtà effettivamente c'era una strana cosa dietro di me vicino al sedere, questo è il suo modo di raccontare, questa è la parte buia, la parte più colorata invece è un'altra pazzacchiona che è una cameriera che si chiama Winnie che a un certo punto quando in una delle sue follie autunnali la madre a un certo punto il dottor Finch decide invece che ricoverarla di portarla in un motel dove si sarebbe preso cura di lei 24 ore su 24, a un certo punto lei vuole a tutti i costi andare da McDonald's, perché vuole uscire, vuole andare a mangiare e si innamora perdutamente di questa cameriera tutta piena di colori, unghie, capelli cotonati e nasce questa amicizia intimissima e immediata, tanto che il bambino Augusten guarda questa scena, guarda sua mamma e Finch che vengono avvicinati da questa cameriera che a poco a poco capisce e non viene convinta, lei è convinta che questo strizza cervelli, come lo chiamano, non sia una persona per bene, per cui di fatto alla fine di questo piccolo pranzo la mamma le dice ok, allora mi viene a trovare Winnie nel motel e Winnie si presenta nel motel e nel giro di 20 minuti caccia tutti, minacciandoli e rimane tre giorni chiusa dentro la stanza con sua mamma che, come dice Augusten, dopo tre giorni esce ed è totalmente irriconoscibile. Questa è invece la parte, diciamo, luminosa della pazzia. Correndo con le forbici in mano è un memoir tecnicamente? Sì, per certi versi sì, io non conosco il signor Burroughs, per cui non so quale sia la quota di menzogna e mi auguro che ce ne sia tanta come i veri memoir, le autobiografie che mentono sono le migliori, perché c'è uno spazio anche per l'invenzione, però certo che l'io narrante si chiama Augusten, l'autore si chiama Augusten e per cui ecco mi auguro per certi, come dire, io personalmente Pietro che lo scrittore Burroughs non abbia proprio vissuto tutto quello che ci racconta in questo libro. È un romanzo poi, o tecnicamente. Gli ascoltatori ideali di questo libro? Probabilmente, ecco, io mi sentirei di dire, diciamo, una tarda adolescenza, non mi sentirei di consigliarlo a esseri umani più giovani, per quello che ci siamo detti. Tra l'altro mi è venuto in mente che il titolo, Correndo con le forbici in mano, in realtà è una sintesi molto efficace della fanciullezza e del pericolo costante e di questo bilico in cui questo bambino poi adolescente, preadolescente, adolescente si muove. Per cui, ecco, mi sentirei di dire che dai 14 in su, 15, uno si può... ma anche perché la verità è che mettendomi nella mente, nella tesca e ascoltando i suoni che escono da questo scrittore, signore che racconta... cioè, i bambini sono le creature più, come dire, soggette a qualunque tipo di umore universale, a qualsiasi tipo di... non avendo tantissimi filtri, la cosa veramente bella di questo libro è che lui si fa arrivare tutto addosso, dritto, e ogni tanto anche le cose terribili fanno ridere, dovuto ar탕ERE di tutto addosso, e ogni tanto anche le cose che... secondo le 윤citi mogli